Se ne stanno in coda come gli altri, aspettano di prendere il vassoio e di servirsi al banco. Un pasto caldo, poi verdura, mozzarella, un frutto. La differenza è che sono italiani, sempre di più secondo i frati dell'Opera San Francesco. Qualcuno ha perso il lavoro, altri sono padri separati, ciascuno ha la propria storia. Il totale fa il 10% delle utenze, che sono migliaia in tutto. Una crescita dovuta alla crisi economica, che assegna agli italiani la medaglia d'argento per presenze alla mensa. Più numerosi solo i romeni. Si tratta di persone che in questo momento sono rimaste prive del lavoro e quindi si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà. Le altre necessità sono sempre legate ai bisogni primari, quindi non solo il nutrirsi ma anche il lavarsi e il vestirsi. Tant'è vero che anche il nostro servizio docce e guardaroba ha registrato un aumento della presenza dei cittadini italiani. Il comune cerca di fare la sua parte per arginare questa ferita e prevedendo orizzonti bui ancora per un po' prepara per ottobre una novità, uno sportello anticrisi per ogni zona della città, un modo per aiutare e coordinare gli aiuti. Il tema adesso non è tanto quello di un'assenza di strumenti di sostegno a reddito, quanto spesso di una mancata anche conoscenza da parte dei cittadini. Allora noi vogliamo accompagnare, aiutandoli anche dal punto di vista psicologico, le persone più deboli a riuscire ad emergere, a riuscire a provarci e ci rivolgiamo proprio a quelle persone, a quelle famiglie che fanno parte della cosiddetta galassia dei nuovi poveri, cioè coloro che magari prima erano in condizioni di normalità e oggi sono in condizioni di povertà e si trovano in condizioni di povertà da un mese all'altro.